Adesso è ricominciata la scuola, parliamoci chiaro, ho una figlia, il ruolo del papà è un ruolo importante di responsabilità, i libri, 150 euro, a mattino devo portarle io a scuola, li tiene tutti nella cartella e la cartella gliela porto io, io arrivo a scuola, poi fa musica, pesa 600 kg dello zaino, gli ho detto amore però non è che devi mettere il pianoforte nello zaino, perché mi succedono delle robe, allora la scuola costa 540 euro al mese ed è dalle suore, le suore sono devote alla castità e alla povertà, sono 2000 persone che vanno in quella scuola, moltiplicato per 540, figurati cosa, ci sono delle suore, hanno il velo in cashmere, con Rolex, la Bente l'hai posteggiata fuori, una volta si chiamavano suor Teresa, suor Giuseppina, adesso suor Chantal, suor Cassandra, suor Jennifer, poi quando escono il signor Pucci che Dio la protegga, ci credo con quello che spendo per far venire la bambina a scuola. Pronto carabinieri, buongiorno senta, vorrei denunciare la scomparsa di mio marito, è uscito stamattina per comprare il pane, ma non è ancora rientrato a casa, come stia calma, stia calma un cazzo, io ho fame. Ho sempre avuto un dibbole per le persone che restano, lontano da me, a casa all'or, senza scassu cazzo, eh? Salvini vuol fare il ponte, il ponte, allora Salvini vuol fare il ponte, fare il ponte, ho saputo soltanto da poco che sarebbe il ponte più lungo del mondo, ma chi cazzo se ne frega? What are you doing? Texting. Texting who? My sister.